E questo era l'ultimo disco per oggi Come devo fare per voi? E questo era l'ultimo disco E questo era l'ultimo disco Ma niente, prossima etapa, prossima disco In officina non ne voleva niente La prossima etapa sarà Cardevole A casa non si studia o si fa tanto da tanto casino del canale Ok, ragazzi, questo è l'ultimo disco Ora facciamo la cosa Ora ritorniamo seduti Ma prima di tornare seduti facciamo la seduta Io volevo ringraziarvi tutti Siete stati fantastici Avete collaborato in maniera totale Avete reso il nostro lavoro semplice e divertente È la seconda volta che vengo al Polivalente Quando sono arrivato la prima volta qua Mi hanno detto che il Polivalente Era una scuola un po' di serie B, serie C Ora c'è da dire Che quando mi dicono queste cose Mica ci credo troppo Io voglio andare a vedere Come stanno le cose veramente E a questi signori Belori andrò a dire che il Polivalente Merita 2A Non 1 Che si è confermato un istituto Fatto di bella gente Nessuna vite Nessuna discussione Tanti messaggi intelligenti Avete preso i DVD Mi aprovi a casa li leggerete Ma soprattutto siete stati fantastici Io Volevo ringraziarvi tutti Ora ci facciamo le foto Nel frattempo Partono le proiezioni Grazie ancora Polivalente Mi auguro Che possiamo ritornare ancora una volta Per festeggiarvi Grazie di cuore Grazie San Giovanni La Punta Grazie Istituto Commerciale Diciamolo bene Commerciale che balla eh Grazie Pantavo Loraio L'officio di studenzione Stati malete qua Foto Proiezione E poi ci sarebbero Macho Che mi piace Grazie a tutti.